Chi pensa che il magna magna nei palazzi romani sia finito evidentemente si sbaglia di grosso perché il porcile che si consuma lì come incarichi, come spreco di danaro pubblico c'è stato, c'era e ci sarà. La cosa assurda è che proprio il Movimento 5 Stelle che tanto parlava di taglio agli sprechi, di riduzione drastica degli stipendi, di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno è caduto negli stessi errori, nello stesso magna magna. Pensiamo al sontuoso staff di Luigi Di Maio, il cerchio magico di Di Maio, il cerchio vesuviano come c'era il cerchio magico di Renzi, un cerchio magico di Di Maio che è composto di ex collaboratori in Parlamento, è composto di sinusi, si compone con altri uomini indicati dalla Casaleggio e poi ovviamente con gli amici degli amici, quelli dell'infanzia dell'ex steward, nonché Bibitaro, allo stadio San Paolo di Napoli. Pensiamo ad alcuni nomi, nella squadra ci sono Massimo Bugani e Pietro Dettori che portano a casa rispettivamente 80.000 e 130.000 euro. Questo Massimo Bugani peraltro è consigliere comunale a Bologna ed è anche consigliere della Rousseau, un triplo incarico. Ma vado così, come dire, an passant tra uno e l'altro. Il superiore di Bugani è Dario De Falco, 100.000 euro all'anno che ha studiato con Di Maio in classe diversa, al liceo in Briani di Pomigliano d'Arco. Poi c'è Sara Mangieri che l'ha detto stampa, altri 100.000 euro e potremmo andare avanti di questo passo perché, appunto, mi viene in nome per esempio un altro collaboratore, Giorgio Sorial, 110.000 euro e un trombato, un ex deputato 5 Stelle che non è stato rieletto e allora Di Maio ha detto, dai, non ti preoccupare, tu devi vivere. Allora facciamo una bella cosa, ti do 10.000 euro al mese e così tu puoi sopravvivere. Pensate un po'. Ovviamente non finisce qui perché al Mise, al Ministero dello Sviluppo Economico, lavora Cristina Belotti, 130.000 euro di stipendio che arriva dallo staff pentastellato al Parlamento europeo e con lei ci sono, appunto, Giorgio Chiesa e Luigi Falco. E udite, udite, vice capo dell'ufficio legislativo è Enrico Esposito. Chi è questo Enrico Esposito? È quello che scriveva dei tweet di stampo sessista e si giustificava, cercava di nascondere queste porcate che combinava, che scriveva, diceva sto recitando il ruolo di un personaggio, non solo io, un personaggio inventato. Però questi tweet non erano firmati con il nome del personaggio inventato, ma appunto con il suo. E allora a questo porco, perché scusate l'espressione, così va definito, vanno 65.000 euro di stipendio. E poi ancora abbiamo altri uomini, sempre del cerchio magico campano. Daniel De Vito, capo della segreteria tecnica, anche lui campano di Avellino, e porta a casa 130.000 euro. E poi anche c'è una giovane avvocata, Elvira Raviele, anche lei appunto di un'altra amica, un'altra amichetta di Di Maio. Così, ora non avrò saltato sicuramente tante altre figure, tanti altri nomi, però questo vi fa capire il sistema, come è marcio, come è corrotto, e soprattutto la ipocrisia del Movimento 5 Stelle. Perché un movimento che parlava di una rivoluzione, che parlava di tagli drastici, poi ha commesso le stesse porcate fatte dalla Prima Repubblica, ricordate gli amici degli amici, della DC, del PSI, per non parlare poi delle varie porcate di Forza Italia e della Lega, e poi le porcate ultime del governo di centro-sinistra, del PD. Ma alla fine, il cerchio magico, come c'era il cerchio magico di Renzi, così c'è il cerchio magico di Di Maio. Che cos'è cambiato? Temo che alle prossime elezioni la gente non andrà a votare, anche perché, o sì, questo pallone pentastellato si è miseramente sgonfiato. Il pallone si è sgonfiato, ma le tasche e la pancia dei pentastellati, che mangiano pure loro, ebbè questo pallone è sempre più gonfio. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.